Oggi completiamo il nostro presepe che abbiamo iniziato qualche video fa, abbiamo aggiunto una serie di modifiche finalmente dopo aver messo la musica aggiungiamo anche gli effetti alba e tramonto con i neopixel per renderlo molto più realistico iniziamo subito Oggi modifichiamo lo sketch del presepe del video 623, quello che aveva anche l'audio e andiamo ad aggiungere i neopixel, quindi cosa che mi avevate chiesto per renderlo più completo quindi questo qui è il nostro sketch, andremo ad aggiungere i neopixel come abbiamo fatto già anche altre volte quindi li colleghiamo al pin set che è il prossimo che ho libero di solito qua conviene mettere una resistenzina, messa da 390 che sono quelle che ho, sulla linea che va ai neopixel quindi rappresento come se fosse una striscia, contate il numero di elementi e controllate che chip avete io ho poi usato un anello con 16 elementi questo ha un ground e dall'altra parte c'è un'alimentazione che conviene portare su un alimentatore esterno perché consumano parecchia corrente, quindi vi consiglio di aggiungere un alimentatore a 5V con il positivo e il negativo il negativo viene messo in comune con Arduino, il positivo invece lo portate sulla vostra striscia neopixel lo potete usare anche per alimentare l'MP3 in modo che non vadano ad assorbire corrente d'Arduino perché questo va a alimentare l'altoparlante poi conviene mettere qua in parallelo con l'alimentazione un condensatore elettrolitico per esempio 470uF 10V e questo dovrebbe essere il tutto usiamo la libreria FastLED che va installata e useremo le tecniche viste nell'ultimo video dove abbiamo generato un effetto alba tramonto appunto con il FastLED noi ripartiamo da capo, prendiamo lo sketch esistente rapidamente useremo, questa è la pagina wiki di FastLED della libreria nella sezione HSV poi vi metto il link nello sketch raggiungiamo in HSV, quindi la notte sarà il blu 160 poi cambiando il valore di H ci sposteremo per fare simulare l'alba quindi vado dal blu fino a rosa circa poi qua se io vado a diminuire la saturazione e rapporto dal massimo 255 a 0 vado sul bianco pieno, quindi così passiamo dalla notte al giorno per il giorno mi metto su un colore giallo con la saturazione a 0 in modo che sia bianco nel momento in cui devo fare il tramonto metto la saturazione al massimo così che dal bianco passiamo al giallo e poi cambio il valore di H, da 64 lo porto verso 0 poi qui vedete che dobbiamo scavallare andando all'altra parte quindi sarò a 255, lo faccio scorrere finché torniamo a 160 e abbiamo quindi la sequenza del tramonto ok, quindi andiamo a preparare il codice io avevo quello del presepe mp3 che è il video 623 apriamo questo sketch e lo teniamo qui come partenza quindi lo salveremo con un nome diverso quindi facciamo file, save as e lo salviamo con per esempio il completo e lo metto in una cartella nuova poi andiamo a prendere il codice del sistema alba e tramonto con i new pixel che era il video 624 anche questo per non reinventarmi da capo tutto il sistema quindi lo teniamo qua che ci servirà per fare un pochino meno fatica in quanto abbiamo già preparato tutto per far vedere meglio le sequenze andiamo ad allargare un po' l'ambito allora qui magari scriviamo neopixel su pin 7 così ce l'avete come riferimento e andiamo ad includere le librerie dei fast led quindi le vado a prendere dall'albe tramonto ce l'abbiamo qua copio queste righe io ho 16 led quindi per me vanno benissimo bene, teniamo più compatto poi abbiamo il setup dove prepariamo i led quindi copiamo la riga di inizializzazione fast led add led pin 7 controllate che il chip sia quello giusto per me è questo qua quindi non ci sono problemi quindi qua possiamo metterci magari quell'inizio qua magari dopo i pin incollo la definizione dei led e potrebbe essere interessante magari metterli prepararli metterli tutti neri allora copio una riga qua dove uso fill solid con fast led show led è l'array num led è la define quindi è già pronta sono 16 led quindi mettiamo un colore prefissato per spegnerli tutti faccio crgb due punti due punti black questo equivale a spegnere tutti i led ok ora scendiamo un pochino e conviene aumentare i tempi perché questo qua è troppo breve facciamo che il ciclo dura un minuto quindi 60 poi se volete potete moltiplicarlo a piacere allora dobbiamo intanto cambiare tutti gli altri interventi qui abbiamo tutti i vari test questi sono stati codificati da 0 a 30 secondi per dilatarli un pochino modifichiamo i valori facciamo così facciamo da 0 a 6.000 all'alba poi il giorno dura da 6 quindi da 6 secondi fino più o meno il doppio 24 qui abbiamo ancora 24 lo facciamo arrivare fino a 34 e poi qui abbiamo da 34.000 a 60 quindi 60 secondi questo è un ciclo mi raccomando verificate ok tutte le variabili sono unsigned and long perché se usate gli interi poi sforate non capite perché le cose non funzionano poi abbiamo accensione e spegnimento delle case qui facciamo circa facciamo 1000 anche se dovremmo stare a metà quindi qua potrebbe essere un 3000 poi abbiamo da 3000 fino a 28 e poi qui da 28 a 60 quindi li ho duplicati in modo che si allarghi tutta la sequenza il fuoco lo teniamo abbiamo la parte con la musica anche questa qui la lasciamo attiva il nostro meccanismo è a posto dobbiamo crearci ora tutta una serie di task per i neopixel mettiamoci ad esempio qui sotto alba e tramonto qua mettiamo neopixel e creeremo alba giorno tramonto e notte ma purtroppo abbiamo varie sezioni adesso ce ne accorgiamo e quindi dovremmo spezzettare un po' le cose quindi creiamo un mettiamoci qua faccio task np sta per neopixel alba aperta e chiusa come deve funzionare? allora il pin non mi interessa gli passiamo tc-t1 che è il tempo quindi questo qui mi serve per capire dove siamo è l'indice temporale che va da 0 a 60.000 e poi dobbiamo dargli due intervalli immagino che l'alba vada da 0 a abbiamo visto prima qua circa 6.000 quindi mettiamo 6.000 andiamo a vedere come possiamo farlo poi penseremo agli altri quindi vado giù in fondo creiamo un void task np alba apri e chiudi le graffe e ci prepariamo a scrivere il codice qui sotto allora l'alba intanto prepariamo le variabili vediamo come le abbiamo inserite qua ecco abbiamo un problema prima andavamo da 0 a 30 secondi queste sono int quindi non va bene dobbiamo mettere tutte unsigned and long quindi le correggiamo tutte perché altrimenti andiamo in overflow che siamo oltre a 30 secondi ok quindi ci copiamo questa tripletta t, t1, t2 che serviranno per capire dove siamo quindi vado giù in fondo ecco qua quindi queste tre sono esattamente queste quindi t, t1 e t2 che servono per capire quando fa scattare il nostro task posso copiare anche un if perché sono tutti uguali lo so prendere da uno qualsiasi vediamo da questo vado qua e abbiamo l'if che fa sì che scatti questo comportamento solo quando siamo tra t1 e t2 cosa faremo per l'alba andiamo a prendere lo sketch dello scorso video dove abbiamo fatto l'alba tramonto devo andare a spostare l'h e s quindi sono due comportamenti differenti quindi dentro qua mi troverei un po' in difficoltà a farlo funzionare allora per questa volta con un po' di furbizia lo spezza ne facciamo due uno comanderà il primo movimento quindi l'h e l'altro la saturazione quindi ne faccio due richiamo h1 e h2 e adesso metteremo il codice noto un'altra cosa che abbiamo usato delle variabili hs per la hue e la saturation quindi andiamo a crearle ce le copiamo anche qua le mettiamo all'inizio quindi qui nella parte del no pixel possiamo incollare queste due variabili che ci serviranno appunto per fare questa gestione qua ok torniamo giù come funzionava qui abbiamo queste operazioni quindi copio solo queste tre mettiamole qua la prima che modifica il valore di h poi il fill solid che applica i valori e fast light show che accende i led qui dobbiamo trovare un sistema per far funzionare questa map qui nello sketch da cui l'abbiamo presa abbiamo i invece qua abbiamo un altro meccanismo che possiamo copiare per esempio dal pvm perché vedete che la map funziona usando t-t1 quindi questo numero che varia tra 0 e t2 meno t1 quindi copiamo questo map qui e la incolliamo qui sotto qua l1 e l2 non ce l'abbiamo sono le due soglie faremo 160 e 200 quindi togliamo questa map qui e siamo a posto quindi questo qui fa variare l'h stesso sistema lo useremo per la parte alba 2 che è quella della saturation quindi copiamoci le istruzioni che abbiamo di là le mettiamo qui questa S varierà con la stessa tecnica quindi copiamo la map dal metro precedente questa lavorerà sulla saturazione portandola da 2,5,5 a 0 incollo e qui mettiamo 2,5,5 e 0 questi sono i comportamenti per l'alba andiamo qui sopra e li attiviamo ne avevo messo uno solo perché non prevedevo di metterne due copia e incolla mettiamo alba alba 1 alba 2 dobbiamo dividerla possiamo fare a metà quindi vado da 0 a 3.000 la prima fase e poi abbiamo da 3.000 a 6.000 la seconda così abbiamo creato la nostra alba poi avremo la parte giorno allora andiamo avanti così quindi vado a copiare questi sketch adesso li rinominiamo facciamo task np giorno questo andrà da 6.000 il giorno possiamo copiare più sopra vado fino a 24.000 quindi metteremo 24.000 poi abbiamo il tramonto il tramonto se vi ricordate avevamo tre fasi quindi prevedo già di metterne tre facciamo così iniziamo a creare il primo faccio tramonto 1 tramonto 2 e tramonto 3 che sistemiamo qui sotto infine abbiamo una notte np notte diamo dei tempi anche per il tramonto entriamo con inizio a 24.000 24 secondi dobbiamo arrivare fino a 34.000 lo vediamo qua quindi abbiamo 34.000 dobbiamo dividere i tempi qui ho già fatto qualche prova quindi viene bene se facciamo da 24 a 26 poi abbiamo ovviamente 26 la fase intermedia dura un terzo rispetto all'ultima quindi questa qua è una parte questa sono altre due quindi qua facciamo da 26 a 29 e qui facciamo da 29 a 34 in modo da distribuire bene poi la notte andrà da 34.000 a 60 quindi 60 secondi ora non ci resta che andare a implementarle quindi andiamo giù in fondo e prepariamo i vari metodi saranno bene o male tutti uguali allora abbiamo il giorno forse il giorno un pochino più facile giorno e notte copio tutto incollo qui abbiamo task np giorno i parametri sono corretti dentro qui abbiamo un colore fisso qua mettevamo se non sbaglio h64 con il fill quindi possiamo modificare le variabili come abbiamo fatto di qua così che poi ci restano pronte per la fase successiva il map non ci serve perché è una fase costante quindi non dobbiamo cambiare nulla qui possiamo o lasciargli il colore così dovrebbe essere corretto se vogliamo essere sicuri che si prende il bianco facciamo crgb due punti due punti white così si becca il bianco pieno e puro lo stesso possiamo fare poi per la notte mi copio tutto questo ctrl c ctrl v questo è notte la notte sappiamo che è blu pieno quindi se voglio tenere i colori giusti qua gli posso mettere 160 in modo che la variabile poi è pronta per quando partiamo con l'alba saturazione togliamola che può essere la modifica e qui gli mettiamo blu pieno facciamo blu mancano le fasi del tramonto mi copio alba 1 vado in fondo la chiamiamo tramonto tramonto 1 andiamo a vedere qua come facevamo quindi vedete abbiamo 3 for quindi il primo va saturazione da 0 a 255 possiamo copiare qua la saturazione l'abbiamo già fatto quindi eccolo qua facciamo ctrl c lo incollo qui sotto quindi va è il contrario da 0 a 255 in modo che passiamo dal bianco al colore pieno che sarà un giallo e poi abbiamo le altre fasi copiamo quello alba 1 che modifica l'h ci mettiamo qui sotto la chiamo tramonto 2 ctrl c ctrl v tramonto 3 tramonto 2 qui passavamo da 64 a 0 e poi da 255 a 160 quindi 64 a 0 e l'altra invece 255 fino a 60 quindi questo è tutto lo compiliamo se non ci sono errori speriamo di non averne fatti possiamo caricare il suo arduino e provarlo non ci sono attraverso il video di oggi si conclude qui spero di aver concluso la serie del presepe per un po' non ne parleremo più spero di avervi aiutato in qualche modo soprattutto se costruite o state realizzando qualcosa di questo tipo a casa quindi per rendere un pochino più vivo si potrebbero poi muovere statui in altre cose però immagino che i meccanismi siano chiari bene vi saluto e vi ringrazio ci vediamo domani ciao